Sin da principio Dio manifesta il suo amore per l'uomo chiamandolo col donna della paternità a collaborare direttamente alla sua stessa azione creatrice. Riscontriamo così i valori essenziali dell'uomo, la comunione con Dio rappresentata dal giardino e dell'Eden, il lavoro, la libertà, la dipendenza da Dio, la corporeità e la sensualità. Uomo e donna non esistono l'uno senza l'altro, pur essendo di pari dignità sono diversi e complementari, di fatti sono distinti, cioè diffronte. Da questa reciprocità complementaria nasce la famiglia, che richiede un distacco, lasciare il padre e la madre, è un approdo alla comunione, i due saranno una sola carne, una coppia che giunge a formare una sola realtà, diventa il segno dell'amore di Dio per Israele e per tutti gli uomini. Nel matrimonio si è esplicita la volontà di vivere insieme nei doveri quotidiani, nelle fatiche, nella procreazione responsabile, nella educazione cristiana della prole. Sono le varie manifestazioni delle attività della famiglia. La famiglia di Nazareth è una vera scuola dell'esperienza della povertà, della gioia e del dolore. È una famiglia umana che vive con Cristo e in Cristo e per Cristo. Questa famiglia di Nazareth è l'ideale del cammino di tutti i genitori con i propri figli. Una famiglia dove Dio è il valore assoluto. Perché, dice Gesù, perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi di ciò che riguarda il padre mio? Paolo VI nel cerebro discorso tenuto nella visita a Nazareth, ci è sorta a metterci alla scuola della Sagra Famiglia per scoprire il senso della meditazione, del silenzio, del lavoro, della sofferenza e della semplicità della vita quotidiana. Il tutto è vissuto in uno spirito di offerta. Una famiglia come le altre, dove Maria viveva una vita comune a tutti, piena di sollecitudini familiari e di lavoro. Una casa con i problemi di tutti e di sempre, di salute, di rapporti, di economia, di stanchezza, di sacrificio. Chi lo sa quante volte Maria ha sofferto non tanto la fame per mancanza di fonti in panca. L'oro, portato dai Maggi, si consumò subito e non fu deposto nella banca di santo spirito. Ma perché vedeva il suo Giuseppe umiliato dalla mancanza di lavoro. Chi lo sa quante volte come le mamme di oggi ha bussato e chiedendo qualche giornata di lavoro per il suo Gesù. Quante volte per i campi o nell'intimità della casetta si è chiusa nel silenzio che spesso era rotta dalle lacrime, non comprendendo ancora tutta la missione del suo figlio. Quante lacrime di dolore e timore prima e di gioia dopo quando Giuseppe la prese con sé e cominciava ad abitare con lui e lei che aveva accettato quella maternità del figlio di Dio e figlio suo che avrebbe potuto esporla all'odibio e alla lapidazione. La famiglia e la chiesa perché la comunità di battezzati si apre al mondo e si rende disponibile ai bisogni del popolo di Dio. In l'ambito della famiglia si vivono in forma profetica eventi particolari la coabitazione con gli anziani, accettazione di una gravidanza non desiderata, dedizione ai bambini subnormali, adozioni e ospitalità. Inoltre alcune scadenze religiose fanno che la famiglia sia sempre più una piccola chiesa, preparazione al matrimonio col fidanzamento per conoscere se è possibile formare una nuova famiglia, attenzione ai compleanni dei genitori, cioè sfruttare tutti gli elementi nuovi e anche di forma di gioia per creare serenità e gioia, vita completa nell'amore di Dio.